Buonasera, bentrovati al Circolo dei Lettori. Questa sera presentiamo l'ultimo libro di Maurizio Ferraris, Documanità, filosofia del mondo nuovo. Ne parliamo ovviamente con l'autore, con Maurizio Ferraris, con il filosofo Massimo Cacciari e con l'architetto e professore al Politecnico Giovanni Durbiano. Ne parliamo con Maurizio Ferraris, dicevo che è professore ordinario di filosofia toretica all'Università di Torino ed è presidente della Bont, nonché direttore di Scienza Nuova, che è l'istituto di studi avanzati che unisce l'Università e il Politecnico di Torino. Parliamo di questo nuovo libro, questo ultimo libro di Maurizio Ferraris, che è un libro che arriva al momento giusto. È un momento in cui la filosofia è chiamata a confrontarsi con la nostra travagliata contemporaneità per offrire una via d'uscita, per offrire nuove prospettive. Ma è un libro che ha avuto una lunga gestazione, che va ben al di là della pandemia e dei suoi effetti, con cui pure si misura. È un libro, a mio modo di vedere, importante, che merita certamente di essere letto, primo perché è scritto molto bene, con uno stile davvero molto brillante e intelligente, ma ancora più merita, io credo, di essere discusso, perché si interroga su questioni centrali per il destino delle nostre società e formula anche proposte concrete, al di là del catastrofismo e del vittimismo, che solitamente accompagnano gran parte delle pubblicazioni che si occupano della relazione dell'essere umano con la tecnologia, vedendo in quest'ultima quasi sempre la fonte di una inesorabile e invincibile alienazione. Ferraris afferma invece, un po' provocatoriamente, ma solo fino a un certo punto, che è proprio la tecnologia a rivelare ciò che realmente siamo in quanto esseri umani. Accennavo al fatto che il libro formula delle proposte concrete. E sì, perché si ripropone di rispondere a una domanda molto impegnativa, una domanda a che fare. Documanità si inserisce in una quadrilogia dell'autore, in cui un po' cantienamente Ferraris si ripropone di dare risposte a questioni fondamentali per la filosofia, ma non solo per la filosofia. La storia dell'ermeneutica, che è un libro del 1988, si riproponeva di rispondere alla domanda che cosa significa pensare. Poi estetica razionale, alla domanda che cosa c'è nel mondo naturale. Documentalità, del 2009, uscito anch'esso per la terza, aveva invece come obiettivo quello di chiarire quale fosse la natura del mondo sociale. E infine Documanità ha questo impegno ancora più gravoso di rispondere alla domanda che fare, che fare in un mondo rivoluzionato radicalmente dalla tecnologia. È un libro dedicato in particolare alla comprensione dell'autentica natura del web, ma per afferrare in essi di una più ampia rivoluzione tecnologica che è in corso e che la pandemia attuale non ha fatto altro che evidenziare ulteriormente e per certi versi accelerare. Si tratta di una rivoluzione che in fondo è anche una rivelazione, perché genera un mondo nuovo, una nuova umanità, che per Ferraris è una documanità, poi vedremo in che senso questo si può intendere. Si tratta per Ferraris di una rivoluzione che impone un ripensamento impositivo della nostra idea di umanità, del nostro rapporto con la tecnica, con la tecnologia. Un ripensamento che passa, e questo è particolarmente significativo, per una nuova idea di educazione, per una nuova idea di formazione, che non sono però campate per aria. Faccio solo un esempio, è impegnato anche Maurizio Ferraris, nella proposta di un percorso all'interno del corso di laurea magistrale di filosofia delle sfide globali, proprio per cercare di avviare la filosofia sul piano concreto della proposta e della soluzione di problemi. Ma ho detto che questo libro merita di essere anzitutto discusso e cominciamo a farlo con Giovanni Durbiano, che come vi dicevo prima è architetto, ma è anche professore ordinario al Politecnico di Torino di composizione architettonica e urbana, tra i suoi libri più recenti, Etiche dell'intenzione, Ideologie e Linguaggi dell'architettura, e con Alessandro Armando, Teoria del progetto architettonico. Prego. Grazie Emanuele. Sì, io sono un progettista e sono anche un architetto praticante, cioè una persona che perlomeno si suppone abbia delle capacità di usare delle competenze per fare delle cose specifiche. In questa prospettiva provo a leggere il libro Documanità con questa esplicita intenzione strumentale. Credo che anche se sono qui sia perché Maurizio Ferraris abbia voluto testare la funzionalità del sistema che lui ha messo in piedi. Un po' come un aspirapolvere nelle vendite a domicilio, che ti viene portato, lo si prova e se funziona uno lo compra. Questo approccio funzionale alla filosofia io credo che sia riconoscibile in primo luogo nella scrittura del testo. Il testo è sorprendente per come non si allinea a una certa tradizione di libri di filosofia. È scritto in maniera diversa. Per esempio non usa la mediazione degli autori per sostenere i propri argomenti. Ferraris non passa attraverso l'interpretazione che di quel tema hanno fatto gli autori nel corso del tempo ma li affronta direttamente, affronta il problema direttamente. Il testo è in buona parte, anzi tutto il testo, è quasi senza autori, quasi senza nomi di autori. I pochi che ci sono, che sono i grandi, sono usati un po' come delle figurine. Mentre invece il vero corpo a corpo, con i testi e con gli autori, è tutto nelle note, che è un libro a parte. La scrittura di Ferraris non passa attraverso gli autori del passato e probabilmente lo fa anche, credo, in reazione a una tradizione, quella dell'ermeneusi, dell'ermeneusi infinita, da cui lui stesso proviene. Hai citato Storia dell'ermeneutica come il primo libro su cosa significa pensare e per cui c'è una volontà di reazione a una certa forma del pensiero. E questo si vede sempre nella scrittura, ad esempio nell'appello non al dover essere degli uomini, ma ai loro interessi. C'è uno spregiudicato uso degli esempi concreti e c'è anche, devo dire, uno straordinario uso di battute. Ce n'è una particolarmente esilerante, secondo me, alla fine del libro, quando pone la delicatissima mediazione tra il cielo stellato sopra di me e il ristorante stellato davanti a me. Ecco, questo approccio alla scrittura, questo approccio alla filosofia, appartiene, io credo, a un progetto, diciamo, politico, di costruzione di un'egemonia che sicuramente c'è, ma anche a un progetto filosofico, il progetto di riferirsi a cose finite. Qui credo che sia l'interesse ormai datato di Maurizio Ferraris verso gli oggetti. C'è una filosofia antitrascendentale che non evoca le questioni ma che le misura rispetto alla concretezza di qui, di ora. Credo anche che questo atteggiamento nasca da una reazione a una crisi del mandato della filosofia a cui Maurizio Ferraris risponde diciamo, provando a renderla servile, nel senso di farla servire. Questo io, quando l'ho conosciuto, molto tardi, ho immediatamente colto questa... immediatamente, no, ci ho messo un po' perché ho dovuto leggere molto per cogliere il significato di questo passaggio ma quando l'ho capito ho cercato di importare il sistema nel politecnico dove gli insegno perché una filosofia che serve credo sia quello che serva ad esempio a una scuola tecnica come quella in cui lavoro. insomma, cosa ho imparato da questo libro? Io credo che siano sostanziali... cioè posso ricondurlo a tre insegnamenti, tre considerazioni. Il primo riguarda il posto del valore del progetto. Documonità suggerisce di non porre il valore prima del progetto, nelle intenzioni autoriali, nella testa dell'autore. Le intenzioni autoriali sono irriducibilmente separate dagli effetti. Sono indicibili, sono irraggiungibili. Il valore del progetto Documanità ci indica di cercarlo nel corso dell'azione. nel modo con cui la promessa di progetto associa, federa istanze diverse e le orienta per produrre un effetto. Istanze tecniche, istanze sociali, istanze burocratiche, istanze simboliche che convergono su una promessa di progetto. E la promessa di progetto produce un effetto. ecco, il fine del progetto in questa prospettiva non è più dimostrare o rappresentare un'idea che c'era prima, ma appunto produrre un effetto. Sembra una banalità, ma vallo a dire ai miei colleghi che insegnano architettura. secondo insegnamento. La finitezza del progetto. L'enfasi che Ducumanità pone sulla registrazione, sulle tracce materiali e contrattuali del documento e quindi del documento di progetto permettono di far uscire la concezione del progetto dall'ermeneosi infinita e riportare l'azione del progetto a termini finiti e misurabili. I progetti possono andare avanti, possono produrre degli effetti, ma possono anche rimanere a uno stato primordiale di associazione con le istanze che vengono coinvolte. Fermarsi. Cosa ferma un progetto? Come faccio a farlo ripartire? Quali strategie devo correggere? esiste un'innovazione in queste strategie? Questi sono temi che rendono diciamo l'ocumanità particolarmente interessante per chi si pone il problema di definire di descrivere il progetto e la sua effettualità. La misurabilità del progetto rende l'azione del progettista meno oracolare meno fuffesca per capirci. permette di misurare permette di fare delle mappe dell'azione di dare rappresentazione alle istanze che vengono coinvolte in un progetto anche a costruire modelli di relazione tra la disciplina del progetto e altre discipline quelle umanistiche ma anche quelle tecniche le ingegnerie ad esempio con cui abbiamo sempre avuto difficoltà a relazionarci. cioè in un altro modo costruisce la possibilità di definire un nuovo mandato sociale al progetto architettonico. Il terzo e ultimo considerazione che faccio è sulla consistenza del progetto. Misurare questa misurazione questa possibilità di misurare il progetto non vuol dire certamente dimenticarsi la cultura del progetto le culture dell'architettura che sono dietro al progetto. Quelle stesse culture su cui si è costruita tutta l'ermeneusi e tutta la storia dell'architettura che si è avvolta intorno a questa a questa a questa interpretazione costruita sull'intenzione autoriale. La misurabilità del progetto presuppone una descrizione dell'azione presuppone la possibilità di descrivere di identificare delle promesse e le associazioni conseguenti. Direi che la descrizione del progetto è costruita sulla definizione di una promessa la più possibile associante la più possibile effettuale ma la promessa ha bisogno della cultura architettonica ha bisogno della cultura per funzionare architettonica questo è il come dire questa la capacità di costruire la miglior promessa possibile ha bisogno della cultura architettonica e di conseguenza di tutta la tradizione interpretativa vermeneutica che fa che fa riferimento alla storia dell'architettonica allora la promessa è costruita sul futuro su quanto del futuro è prevedibile e quindi attraverso il calcolo e su quanto invece è imprevedibile e quindi attraverso l'invenzione l'umanità proprio perché sottolinea la tecnica come seconda natura dell'uomo rende legate il calcolo e l'invenzione e qui su quest'ultimo punto faccio una domanda che rivolgo a Maurizio ma anche ai filosofi in generale l'umanità come altri libri d'altra parte annuncia la relega nel capanno degli attrezzi dell'homo faber si apre una stagione del consumo o come ha scritto Cacciari del lavoro dello spirito e gli architetti gli architetti calcoleranno probabilmente un po' meno perché calcoleranno le macchine ma dovranno comunque inventare allora la mia domanda è possibile definire il campo filosofico di una tecnica dell'invenzione grazie Giovanni che hai messo in luce questioni che sono vicine al tuo ambito ma hanno assolutamente a che fare direttamente con le tesi del libro di Maurizio che ha una sezione interamente dedicata alla teologia ai fini quindi il progetto si inserisce perfettamente in un discorso ampio anche per questa riflessione finale sulla quale poi torneremo quando avremo modo di dare la parola al nostro autore adesso continuiamo a conversare dando la parola invece a Massimo Cacciari filosofo notissimo merito di filosofia all'Università San Raffaele di Milano tra i suoi ultimi libri Il lavoro dello spirito che recentemente abbiamo presentato proprio qui al Circo dei lettori pubblicato da Adelphi e poco prima La mente inquieta uscito da Einaudi prego grazie sono molto lieto di presentare il libro di Maurizio perché beh questa è un'esperienza strana che gli ho anche raccontato cioè perché sicuramente la mia scrittura può apparire quanto di più lontano sia immaginabile dalla sua e nello stesso tempo poche volte mi sono sentito maggiormente d'accordo con le tesi di fondo di un libro cerco di riassumerle queste tesi ponendo se mi riesce anche qualche qualche domanda e qualche problema l'accordo di fondo riguarda riguarda un aspetto del libro la forma del libro che forse vale la pena sottolineare perché può essere che non venga apprezzata come secondo me è necessario cioè il libro è un sistema e io sono profondamente d'accordo che la filosofia è tale se si svolge in modo sistematico se collega la parte formale epistemologica alla parte fenomenologica filosofia è la comprensione del proprio presente non la narrazione e neanche una descrizione empirica è la comprensione del proprio presente nella forma del sistema è la comprensione del proprio presente nel concetto ora la scrittura di Maurizio è tale che forse questo aspetto rigoroso può essere che non venga apprezzato come secondo me è necessario e quindi il problema del libro è proprio la comprensione del proprio tempo del presente concettualmente e che cosa dice Maurizio a questo proposito che il nostro presente è scientifico nel senso letterale del termine il nostro presente è informato tutto dalla forma dello scientiam facere non di uno scientifico teorico eccetera ma di uno scientifico che ha immanente in sé l'aspetto tecnico pratico questa è la grande lezione del moderno del contemporaneo che va rivendicata in pieno anche oggi se vogliamo affrontare il nostro presente dobbiamo partire dalla coscienza che il nostro presente è più che mai dominato dallo scientifico dallo scientifico che il nostro presente è più che mai dominato da quello che ho chiamato lavoro dello spirito che questo è il lavoro produttivo per eccellenza che questo è il lavoro che ha valore in tutti i sensi del termine in tutti i sensi che possiamo attribuire al termine siamo arrivati ad un presente del lavoro dello spirito del lavoro scientifico che come è stato detto supera l'epoca dell'homo faber il lavoro scientifico consente a tutti oggi questa è la 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 forza presente del libro di morizio a tutti oggi consente di pensarsi nella forma del lavoro dello spirito non soltanto allo scienziato in senso proprio o altri dimensioni che tradizionalmente ai cui tradizionalmente attribuiamo il valore del lavoro dello spirito no oggi il lavoro dello spirito il lavoro scientifico è giunto a questo punto è giunto a questa svolta epocale siamo nelle condizioni finalmente di attuarlo universalmente non si potrebbe dire ma qui è il sapere assoluto di Hegel no perché non è il sapere assoluto è quel sapere che invece si incarna si incarna nel sapere tecnico nello specialismo non è il superamento nel senso hegeliano non è il superamento nel senso idealistico delle finitezze del lavoro tecnico del lavoro specialistico no il lavoro tecnico il lavoro specialistico si coordinano danno vita a quello che Marx chiamava un cervello sociale in cui appunto le diverse parti le diverse dimensioni sono tutte essenziali e rimangono tali non c'è nessuna sapere che le supera come dire sono loro nella loro nella loro concretezza e nella loro e nella finitezza di ciascuno a dar vita insieme al cervello al complesso dell'intelligenza scientifica che domina l'epoca ma che giunta a questa svolta epocale di permettere attraverso il proprio dominio un processo di liberazione universale questa idea ha una sua storia come prima è stato richiamato non c'è dubbio non c'è dubbio c'è la nostra storia le cose che si dicevano prima sul progetto mi è capitato anche di lavorare tanto proprio anche con architetti in passato non c'è dubbio che vi è un'idea del progetto idealistico l'idea che ha il primato e poi una deriva applicativa più o meno felice non è questa l'idea del progetto della grande architettura la casa la si fa in cantiere la casa la si fa il progetto il progetto si costruisce facendolo bisogna bisogna l'aspetto tecnico l'aspetto tecnico è immanente all'aspetto inventivo ideativo non sono due momenti di cui il primo avrebbe il primato e il secondo sarebbe meramente tecnico no la tecnica è immanente al sapere la mano per usare un'immagine a me molto cara che ritorna nel libro di morizio la mano sa la mano sa la mano conosce come sa il nostro linguaggio il nostro linguaggio ci parla noi che ne usiamo come di un martello è così la mano la mano dei grandi umanisti la mano di Bruno ci sono pagine meravigliose di Bruno dice guarda la mano guarda la meraviglia di questo strumento la mano senza la mano sarebbe intelligenza l'intelligenza immanente alla mano l'intelligenza immanente alla tecnica l'intelligenza e poi la tecnica il sapere poi la tecnica oggi questo scientifico scienzian facere è giunto a questa svolta epocale è giunto a questa svolta epocale cosa vuol dire vuol dire che tutti io condivido proprio pienamente direi politicamente questo il disegno di questo libro tutti dobbiamo ritenerci impiegati in questo processo di valorizzazione tutti siamo dentro questo scientifico tutti siamo dentro il processo di valorizzazione tutti contribuiamo in quanto produttori in questo e produttori oggi essenzialmente di informazioni di documenti ha ragione Maurizio siamo tutti essenziali al processo di valorizzazione tutti siamo essenziali a questo aumento di ricchezza e tutti quindi dobbiamo parteciparvi è una rivendicazione salariale reddito di cittadinanza no non è una rivendicazione salariale anche certamente ma è soprattutto che cosa è soprattutto la rivendicazione che questo processo ci liberi dal lavoro nella sua forma servile dal lavoro nella sua forma di occupazione dal lavoro dipendente dal lavoro condizionato dipendente dove il lavoro condizionato dipendente è anche semplicemente il lavoro calcolatorio il grande Leibniz mai dimentichiamoci che i padri del moderno sono insieme scienziati matematici fisici si rompe questa alleanza che non può più essere ripresentata evidentemente nei termini in cui era in cui viveva all'epoca dei Leibniz degli Spinoza e dei Cartesio però ecco qui il problema della filosofia certo che non ci può essere più il Leibniz certo che l'intelligenza scientifica si accompagna ad un crescente specialismo certo e va bene e non va assolutamente e non va assolutamente criticato questo processo come avvenne tra 800 e 900 presso certa cultura certo ma c'è un problema un problema proprio eminentemente filosofico quello di comprendere bene che l'astrazione immanente al lavoro specialistico comporta poi una riflessione analogica tra i vari specialismi perché altrimenti i diversi specialisti i diversi specialismi si si formeranno come delle piccole totalità e quindi contraddicendo il loro specialismo perché quando lo specialista ritiene di essere tutto cessa di essere specialista e cessa di essere anche scienziato questo è un lavoro che la filosofia su cui la filosofia contemporanea deve fare ed è implicito nel lavoro di Maurizio il lavoro analogico del filosofo vedere appunto di comprendere il proprio presente e quindi nel proprio presente come si dispongono gli specialisti e come è possibile dialogare tra loro e come è possibile creare un logo su un metro una misura un rapporto che ha un valore epistemologico ma che ha anche un valore etico un valore politico come rapportare questi diversi questi diversi specialismi in modo da renderli coscienti tutti che siamo a questa svolta che è possibile porre questo problema epocale davvero il superamento di ogni forma di lavoro calcolatorio meccanico servile che questo è realmente possibile che questo è realmente possibile considerarci tutti i produttori della ricchezza e parteciparvi non soltanto dal punto di vista economico ma dal punto di vista appunto di poter essere finalmente attivi non occupati attivi causa sui causa sui non cose Marx ma cause è possibile questo e questo libro e ripeto in questo la mia totale consonanza questo libro indica questa prospettiva politica filosofico politica e quando mai la filosofia degna di questo nome non è stata anche politica e quando mai a volte ti chiedono ma cos'è il rapporto tra filosofia e politica ma che cosa volete che c'è il rapporto tra filosofia e politica ma da talete è implicito parmenide parmenide era un legislatore ma che discorso non è concepibile filosofia che non sia politica e di nuovo un libro importante come questo ribadisce ma in modo naturale immediato non c'è neanche bisogno di discutere da questo punto di vista lo sbaraccamento di una serie di ideologie c'è una a questo punto posta la questione ne consegue ma proprio si viene giù per gli rami voglio dire tutta una critica della ideologia corrente rispetto alla macchina alla macchina la macchina libera non schiavizza la macchina ci libera dal lavoro servile schiavi della macchina che cosa oppure l'idea appunto che qui c'è davvero una grande ignoranza anche della filosofia corrente che non ha fatto i conti fino in fondo con le neuroscienze con gli studi scientifici più avanzati da questo punto di vista e quindi quest'idea per esempio dell'intelligenza artificiale ma l'intelligenza artificiale renderà inutile il nostro cervello cose di questo genere si sentono scemenze di ogni tipo a questo proposito la macchina la macchina più avanzata è un insieme diceva Gredel polemizzando con Turing tra l'altro è un insieme di stati determinati è un insieme di stati non potrà mai nessuna macchina avere la dinamica che ha il nostro cervello ma per ragioni scientifiche non per altro il riduttivismo della della mente a cervello e della mente e della coscienza alla mente è un processo che non ha che non ha base scientifica la macchina sa certo che la macchina sa ma filosoficamente sa di non sapere è molto semplice la domanda socratica elementare la domanda che porrebbe Socrate a questi riduttivisti a queste queste sa sa che cosa sa di non sapere questa è la è la coscienza che ha fatto andare avanti il nostro genere sapere di non sapere no? se no si sarebbero fermati a dire cos'è l'archè l'acqua fine c'è stato uno che dopo ha detto ma io invece so di non sapere so di non sapere che cosa so di non sapere che cos'è l'archè perché la cosa che mi ha raccontato Taleta non mi funziona questo processo può essere immanente ad un sistema per quanto raffinato e complesso macchina questo è banalissimo processo che ho appena descritto quindi è chiaro che la macchina la macchina ha dei grandissimi pregi libera dal nostro lavoro servile dal nostro lavoro meccanico e non si ammala bellissimo benissimo per cui io sarò libero di ammalarmi senza avere il problema di perdere il lavoro per esempio la macchina non si ammala perfetto e non ha diritti quindi certo e non ha diritti e e e e non è lo schiavo che mi pone il problema a me padrone prima o dopo che lo schiavo mi ammazza giustamente non mi pone il problema schiavo servo padrone di Hegel no non mi pone quel problemino lì per cui appunto alla fine il servo mi farà mi farà mi farà nuovo e non si ammala perfetto viva la macchina ma problema finale e non la faccio più lunga problema finale perché questo funzioni politicamente nel senso che è diciamo implicito nel libro di Maurizio perché questo funzioni funzioni davvero nel senso che lui dice e che ripeto io profondamente condivido e ci vuole una parte che nel libro non c'è e c'è tutta la parte politica perché questo non avviene naturalmente non è questo sistema che produce questo processo di liberazione c'è un problema a questo punto emerge un problema di soggettività politica se il soggetto non c'è questo questo processo non procede questa opportunità epocale non verrà non verrà colta insomma c'è poco da fare insomma qui c'è un problema politico e accompagnato dal problema politico un problema giuridico perché poi il politico si esprime attraverso leggi si esprime attraverso nomoi attraverso quale nomos possiamo governare il processo verso le opportunità straordinarie che si aprono la filosofia ci rende cosciente e cerca di rendere coscienti tutti gli scienziati di queste di questa apertura di queste di questa possibilità ed è un lavoro importantissimo e ritengo ancora tutto da svolgere e poi c'è una conseguenza e poi c'è un problema politico che nel libro viene indicato ma non viene certamente svolto come vengono svolti tutti gli altri temi e quelli epistemologici e quelli fenomenologici a cui ho fatto un brevissimo un brevissimo riferimento quindi un libro che come tutti i libri importanti non solo apre una discussione ma apre a elaborazioni successive e non soltanto dal punto di vista specialistico ma dal punto di vista sociale e politico grazie mille per questo ricco intervento che ha toccato alcuni temi che sono veramente centrali nel libro e che ulteriormente ha segnalato come questo volume sia in fondo anche una proposta radicale politica nel senso più alto del termine che va discussa argomentata che va anche per certi versi continuata con i canali che sono propri delle varie discipline ma della filosofia anzitutto perché di questo stiamo parlando oggi e cominciamo quindi a dare alcune risposte insieme a Maurizio Ferraris che ormai ha delle questioni a cui rispondo prego grazie grazie sono profondamente onorato in questo momento veramente toccato da tutto quello che è stato detto e questo renderà peggiore la mia prestazione perché io ho un minimo di come dire reattività se mi danno dello stupido allora dico no come eccetera se invece mi dicono delle cose così generose ho l'impressione di rovinare tutto rivelandomi per quello che sono e quindi devo parto dal punto fondamentale che si è manifestato alla fine ma che era presente anche nell'intervento di Giovanni a proposito del progetto così come nell'intervento di Emilio che ha indicato che effettivamente il tema qua è il che fare è la teleologia politica per l'umanità però punto c'è la questione politica cosa fare per la questione politica lì do una soluzione che non è una soluzione è solo un'indicazione che consiste nel dire una volta che tu concettualmente hai spiegato che è inutile inseguire i vecchi lavori di una volta che oltretutto nessuno sarebbe disposto a fare ma non dico andare in una catena di montaggio ma fare il dattilografo qualcuno pensare di arrivare alle nove di mattina in un posto e star lì a sentire qualcuno che ti detta per otto ore è una cosa che adesso noi considereremmo a giusto titolo in umano e in fondo se lo consideriamo in umano non è perché siamo diventati macchine come dice appunto questa convinzione del tutto infondata ma semplicemente perché abbiamo scoperto che delle macchine possono farlo e se una macchina può farlo non c'è bisogno che lo faccia un umano mentre ci sono delle cose che le macchine non possono fare per esempio non possono desiderare o temere qualcosa non possono avere fame o sete non possono non muoiono davvero perché una macchina è fatta per accendersi e per spegnersi mentre l'umano ha come ogni organismo badate bene non do l'eccezionalismo umano come in Heidegger solo l'uomo muore no ogni organismo muore semmai solo l'umano essendo un organismo particolarmente svantaggiato ha sviluppato una serie di tecnologie che lo hanno reso umano cioè prima del primo colpo data la prima selce per farne un raschietto non c'è un umano c'è un animale come tutti gli altri in quel momento lì ha inizio la storia umana e del resto ne abbiamo anche una prova del fatto che ci sono civiltà di cui non abbiamo testimonianze scritte per inciso anche la scrittura e la tecnologia e di cui peraltro ci sembra di sapere qualcosa perché perché restano delle suppellettili e tanto ci basta per pensare o appunto restano dei monumenti che le piramidi sono abbastanza espressive di che cos'era di che cos'era l'Egitto l'Egitto peraltro che era già abbondantemente munito di scritture quindi sappiamo tante altre cose per appunto l'idea di un progetto per venire a quello di un progetto architettonico che non abbia al proprio inizio e alla propria fine un umano è totalmente privo di senso ma non perché ci sia una qualche eccellenza dell'umano ma perché l'umano ha una temporalità l'umano ha appunto dei bisogni e quindi l'umano può trovarsi a progettare qui non sto dicendo niente di diverso da quello che dice Heidegger sebbene appunto lui poi lo restringe in momenti decisivi a una questione di una specie di umano in sé che sa cosa significa pensare mentre che cos'è l'umano l'umano lo conosce attraverso attraverso l'agire e attraverso appunto un lavoro che a lungo è consistito nel fare dell'umano una protesi dell'apparato tecnico cioè in fondo il contadino ecco questo è una protesi una protesi è una protesi di umano nel senso che per esempio è anche molto docile basta poco per spegnerla questo il sistema costituito dall'aratro dal contadino dal bue davanti è un apparato tecnico in cui il contadino è una protesi tanto quanto c'è una parte in cui il contadino non è una protesi ma è la parte in cui il contadino decide di fare il contadino o decide quando seminare o decide che cosa fare nei suoi campi ed è quello che può fare chiunque senza spingere un aratro eccetera quindi qui c'è io nello scrivere questo libro ero molto preoccupato perché tutti mi dicevano ti farà un blu perché tu vai lì a dire cos'è questi che rimpiangono i lavori di una volta purtroppo effettivamente anche dentro alla sinistra c'è moltissimo bisogna ripartire dal lavoro e ripartire dal lavoro e grosso modo ripartire da mirafiori io mi domando seriamente come oppure contrattualizziamo i rider va bene contrattualizziamo i rider però più utilmente sarebbe facciamo in modo che i rider siano sostituiti dai droni e va benissimo dopodiché queste persone saranno restituite alla loro dimensione di persone e non dovranno lottare girare in bici per vivere ma potranno essere sostenute downwelfare la cui base consista proprio nel riconoscimento che ognuno di noi in ogni momento della sua vita produce valore perché la grande differenza è che fino a poco tempo fa il consumo non produceva valore perché si disperdeva adesso il consumo genera valore perché viene registrato e capitalizzato in maniera anche iniqua nel senso che le piattaforme guadagnano molto più degli utenti però questo plus valore non ci vedo niente di male ma va ridistribuito e allora a questo punto per esempio quelli che dicono faccio un robot per tenere compagnia alle persone e poi uso un rider per andare a portare la pizza è tutto sbagliato usi il rider per tenere compagnia alle persone e usi un robot per consegnare la pizza mi sembra senza dimenticare poi il fatto che la pizza non interessa a nessun computer la pizza interessa soltanto a degli organismi viventi che hanno questo tipo di intenzioni allora io trovo da una parte una grande mancanza di in fondo una grande rassegnazione perché c'è all'interno del pensiero di sinistra e secondo me questo segna le difficoltà che il pensiero di sinistra incontra in questo momento il motivo per cui deve essere ripensato e rilanciato di uscire da uno stato di vittimismo perché essere di sinistra significa allo stato attuale sostanzialmente dire il mondo è pieno di poveri disgraziati e io sono il santo che va a compatire questi poveri disgraziati ma questo non c'è bisogno di essere di sinistra per fare un mestiere di questo genere fra l'altro il più delle volte una volta che hai detto quello continui nel convegno io tutte le volte che in un convegno c'è qualcuno che mi fa l'esempio i poveri sono sempre più poveri i ricchi sono sempre più ricchi eccetera ma se pensi che sia così cosa stai a fare qua perché facciamo sti convegni se pensi che l'umanità non sta andando verso il meglio scrivere libri far convegni mettere su l'università noi chiudiamo la luce andiamo via disperdiamoci nelle boscaglie così almeno non rovineremo non rovineremo l'ambiente allora il punto fondamentale è che si dà effettivamente adesso una grande occasione ed è appunto l'occasione di vedere all'interno del consumo nel senso più che va appunto da quella pizza di qui sopra al lavoro dello spirito in tutto questo c'è produzione di valore cosa che prima non si dava e questo per un particolare tecnico a cui all'inizio non si era neanche pensato cioè che il digitale registra prima di comunicare e quindi capitalizza ogni atto mentre prima la capitalizzazione degli atti era un evento eccezionale deliberato e anche costoso il grosso problema e qui in termini diversi avete insistito tutti e tre su questo punto e cioè sul fatto come possiamo implementare per dire così politicamente questa iniziativa questo è il punto fondamentale non mi sembra per niente sorprendente il fatto che ci siano i populismi o che ci siano ma è ovvio è ovvio nel senso che se l'alternativa è io ti compatisco meglio di quell'altro io non aspiro né a compatire né a essere compatito allora è lì secondo me questo orizzonte omnicomprensivo per cui ci sarebbe da una parte il capitale intelligentissimo che fa tutto ed è cattivissimo e noi una banda di scemi che siamo completamente schiavizzati dal capitale eccetera fino al punto guardate bene questo è un punto interessante che allora ci sono interpretazioni eccetera ma per esempio la Cina è comunista e che la Cina sia comunista è provato dal fatto che socializza per l'appunto il plus valore delle piattaforme e questo fa sì che questo webfare sia realizzato in Cina problemino se è lo Stato che lo fa è anche molto interessato alle idee dei suoi cittadini e infatti in Cina non è che si sia tanto liberi ma si è mai stati liberi in un paese comunista però se tu dici guarda che in Cina sono comunisti ti dicono no ci sono i miliardari e il neoliberismo sfrenato ma allora comunista è solo quello che gli va male se va bene non può essere comunista allora non è una grande pubblicità quella che tu puoi dare a un progetto politico allora fra i come dire dice il proverbio un treno può sempre nasconderne un altro siamo tutti qui a preoccuparci delle fake news oppure della infrazione della privacy sembra che il problema sia fondamentalmente questo quando poi c'è metà del mondo che pubblica le proprie foto in mutande sui social quindi già questo ti dà un'idea singolare della tutela della privacy o di quanto importi la privacy le persone poi fra l'altro la privacy non interessa davvero alle alle piattaforme industriali commerciali interessano i nostri soldi non le nostre idee non la nostra vita privata non interessiamo come individui ma come portatori di regolarità se io cerco di andare a vendere i miei dati biometrici per pagarmi un caffè mi ridono in faccia al massimo posso vendere un rene nel dark web le piattaforme invece possono vendere i miei dati ma solo nella misura in cui sono aggregati i dati di tantissimi altri ed è per questo e quindi la privacy è l'ultimo dei problemi il primo dei problemi è invece quello del dire dobbiamo rilanciare un welfare non puoi farlo con le tasse non puoi farlo con la tasse sui capitali che ricompare in continuazione tra l'altro c'è sempre qualcuno che si impegni e dice facciamo la tasse sui capitali i più acuti tipo picchetti dicono si dovrebbe fare la tasse sui capitali se non lo si può fare e allora che cosa fai io credo che questi siano i grandi quesiti che ci aspettano ma io credo di aver fatto semplicemente diciamo così il lavoro cioè a ronne lì insomma altri lo faranno anche perché c'è di buono che questo è un fenomeno molto recente molto più recente di quanto non si pensi non data trent'anni non è da quando c'è internet o cose di questo genere è semplicemente da quando è diventato chiaro che il grande capitale non sono i soldi non è la finanza attualmente sono i documenti e se sono i documenti siamo noi gli attivi produttori del capitale e dunque nessuno potrà dire io scappo all'estero con con il capitale perché dovrebbe scappare con tutti noi e non credo che sia disposto a portarci con lui quindi questo è il grande lavoro politico per inciso non voglio portare via lavoro agli architetti nel senso che ci sono professioni insomma voglio dire per esempio tutti e quattro qui presenti abbiamo la fortuna di avere un lavoro aggiungo un'altra cosa è un lavoro che molto probabilmente nelle sue parti essenziali non sarà sostituito a nessuna anche questo è un'ottima cosa per quanto ci riguarda perché così siamo tranquilli noi i nostri cari siamo anche consapevoli del fatto invece che ci sono tanti altri lavori che saranno automatizzati dobbiamo fare dei finti atelier nazionaux per fare delle finte catene di montaggio per dare dei finti lavori alle persone no dobbiamo riconoscere appunto come lavoro anche il lavoro dello spirito e soprattutto che l'educazione sia il momento fondamentale del futuro non deriva soltanto dal fatto che a parlare un professore quindi se lui dice ovvio che dirà l'educazione se fosse un cuoco direbbe che è la ristorazione per me anche la ristorazione ma comunque e perché quando Keynes negli anni trenta diceva dovremmo immaginare una giornata lavorativa una settimana lavorativa di quindici ore poi non c'è stata nel senso che in effetti c'è una giornata in cui sette giorni alla settimana 24 ore al giorno tutti cioè bambini anziani pensionati disoccupati altrimenti occupati producono valore senza pensare di star producendo valore e quindi in generale poi la cosa è andata verso un'estremizzazione cioè c'è o i disoccupati oppure quelli che lavorano tantissimo queste quindici ore settimanali non si sono mai create ma lui poi non si poneva il problema di cosa fare lui perché lui sapeva già che cosa fare lui aveva delle conferenze internazionali a cui andare doveva scrivere dei libri doveva flirtare con gli amici a Blusbury figurati si poteva il problema di poi abbiamo invece una persona che è stata scarsamente educata per inciso adesso molto meno che non 50 anni fa che non 100 anni fa e lo dico a coloro che dicono stiamo andando verso il peggio le persone adesso esprimono continuamente per iscritto le loro opinioni sul web sono opinioni valorte spesso perché dovrebbero essere intelligenti da che parte sta scritto che se uno esprime la propria opinione esprime un'opinione intelligente resta il fatto che c'è questa libertà di tempo che è difficile poter fare postare dei discorsi d'odio mentre sei alle presse perché poi ti fai male alla mano mentre scrivi il tweet aggressivo e più spesso è la persona che o non lavora o lavora molto di meno appunto non so dove ho letto che se qualcuno di 100 anni fa ritornasse adesso nel nostro mondo concluderebbe che noi non facciamo niente di questo e credo che sarebbe vero cioè da quel punto di vista lì non farebbe niente per fortuna lavorano le macchine e infatti stiamo meglio e ci sono più merci e a prezzi inferiori invece di essere non dico contenti perché poi dicono temo sempre di essere il panglos di Turio il migliore dei modi possibili no è il pessimismo radicale per come siamo fatti noi esseri umani ci è andata fin troppo bene dopodiché cerchiamo di seguire su questa via però sono d'accordo il vero problema è come rendere operativo questo tuttavia a parte appunto che in Cina l'han già reso operativa la maniera loro e non credo che noi saremo così contenti di farlo come loro però resta il fatto che fin tanto che non c'è una coscienza diffusa intanto non adesso è diffusa nel senso che mi sembra che noi quattro per esempio non siamo tantissimi però sono convinto che poi col tempo la gente prende la vita non lo so però non dobbiamo fare una coscienza di classe dobbiamo fare anche per alcune delle cose che scompaiono sono le classi così come scompare la diminuzione che non sono la loro ripetitiva eccetera non ci viene male anzi lo considero un tratto positivo però ripeto il grande lavoro è ripeto il lavoro dello spirito ed è il lavoro che noi dobbiamo pensare per il futuro attraverso una come diceva nel libro trasvalutazione di tutti i lavori cioè riuscire a capire che quello che consideravamo lavoro è molto spesso qualcosa che può essere sostituito dalla macchina e quindi non ha valore mentre la misura ultima del valore per gli umani è ovviamente sempre l'umano e questo è la grande scommessa su cui la grande scommessa queste scommesse il grande impegno la grande lotta il grande obiettivo in cui noi dobbiamo dobbiamo batterci in fondo appunto le rivoluzioni del settecento dell'ottocento che cosa volevano dire volevano dire che tutti gli umani sono uguali e sono portatori di pari diritti era già un grande passo in avanti rispetto a delle concezioni precedenti anche se non era neanche una novità assoluta tante religioni hanno detto questa cosa qua poi è stato un tentativo di ridistribuire il plus valore adesso ci troviamo di fronte a una fase in cui si tratta di riconcettualizzare la natura umana perché io non capisco mai quando ed è l'ultima cosa e poi smetto quelli che parlano di postumano l'umano è di per sé postumano appunto il primo postumano era quel tizio là con l'assenza nel senso che ha modificato la cosa io sono postumano come pochi perché c'ho gli occhiari e tutti noi siamo postumani nel senso che non viviamo nella savana inseguiti da animali che ci divorano ma possiamo permetterci di parlare dell'avvenire del destino dell'umanità però il passo successivo è riuscire a rendersi conto che l'homo faber non è qualcosa di iscritto dentro la natura dell'umano è un'epoca che ha avuto un inizio e che progressivamente avrà una fine e dobbiamo riuscire a pensare il futuro per quell'epoca allora certo ci sono degli esempi del passato i senatori romani non si annoiavano per niente facciano tutte le cose molto distinte scicare problemino perché i lavori li facciano gli schiavi nel momento in cui possiamo disporre di questa enorme quantità di schiavi e non li offendi dicendo che se un orologio è uno schiavo si offende e semplicemente poi è un po' fuori luogo ma comunque nel momento in cui l'automazione può prendere il posto di questi attori umani dell'attività bisognerà appunto da una parte vedere il positivo di questo di questo che non è mai stato stare in un angolo di ubriacarsi che lo sappia credo che fosse l'abitudine di Severino Boezio sempre lì piantala con quella bottiglia no era lì che stava trascrivendo dei codici stava leggendo delle cose e che questo possa diventare il mio posto io grazie mille Maurizio ma mentre adesso non ci siamo organizzati la parte secondaria però qualche controreplica magari possiamo anche se avete piacere pensavo solo una cosa che anche questa consonanza che abbiamo registrato rispetto ai temi fondamentali del libro secondo me viene anche da lontano nel senso che anche questo bisogno di riconcettualizzare la natura umana e anche il nesso se vuoi dominio e sottomissione io lo trovavo già nel libro di Bodei che anche quello ha una lunga storia perché è un libro che portava avanti ricerche che conduceva da qualche decennio e forse è indicativo come proprio nell'ultimo capitolo in cui arriva a parlare di intelligenza artificiale e dei nuovi lavori quel nesso che ha accompagnato per tanti anni la storia del genere umano non funziona più e forse va ripensato e anche il libro di Massimo il lavoro dello spirito va a mio modo di vedere in quella direzione cioè siamo su un punto che non consente più di utilizzare quelle vecchie categorie e quindi salta una quantità di concetti connessi a quel nesso e quindi forse è per quello che c'è una coscienza che sta maturando chiaramente qualcuno non sarà d'accordo però credo che venga non isolatamente prego per la categoria è interessante che sono filosofi giusto per l'orgoglio professionale della categoria perché appunto molto spesso la riflessione invece su della mediologia che spesso viene non va in questa direzione ma è anche giusto che sia così sta di fatto una battuta per riprendere quello che credo che possa in qualche modo indegnamente collegare la mia considerazione con quella di Massimo Cacciari che hanno a che fare col progetto non tanto architettonico nel caso di Cacciari ma diciamo della soggettivazione politica preso atto del fatto che siamo di fronte a un momento di liberazione allora cosa succede cosa succede quando ci stupiamo di fronte al fatto di essere in questo processo che per la prima volta percepiamo diciamo parziale ovviamente incompletissima liberazione del lavoro a me sembra che per rispondere alla questione posta da Massimo Cacciari probabilmente bisogna rimettere in discussione le forme della politica le forme della politica a cui siamo abituati noi concretamente quelle dei partiti ma anche quella della piattaforma Rousseau o del populismo delle felpe cioè è evidente che tutta la forma della politica a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi secoli viene messa in discussione da questo da questa sorpresa ci sorprendiamo di fronte al fatto che siamo diciamo parzialmente perché ci sono in realtà un processo tutto in divenire ma di fronte a questa liberazione e la costruzione di una nuova forma di partecipazione politica di mobilitazione politica nuovi oggetti di mobilitazione politica questo a me sembra che sia il modo mi rendo conto molto astratto di rispondere alla questione fondamentale che pone Massimo Cacciari la sorpresa che 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 lo stupore che apre d'umanità pone una domanda quella che pone Cacciari e a me sembra che concepire nuovi oggetti di mobilitazione politica che non siano quelli più volgari a cui abbiamo assistito in questi anni in Italia ma un po' dappertutto sia il modo diciamo il grande impegno di cui parlava Maurizio prima Maurizio ha dato un'idea ampia dei contenuti del libro poi si torna lì è chiaro che non è un processo naturalistico non è il 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 fine cui il libro indica forse nel libro manca come dire una teleologia perché appunto se no si corre il rischio di intendere di di concepire il sistema la struttura del sistema in cui viviamo come naturalmente destinata a quell'esito non è così lo constatiamo di continuo perché la ricchezza prodotta è una ricchezza che ancora una volta viene viene posseduta da alcuni e il modo in cui la si distribuisce è deciso da dei soggetti allora o c'è un decisore politico accanto ai decisori tecnico-economici e c'è una competizione un conflitto nel senso letterale del termine non la guerra civile ma un confliggere tra queste dimensioni e allora possiamo avere come esito anche quello di una progressiva liberazione dalle forme eccetera eccetera quello che si è detto oppure si andrà avanti non so come non so per quanto ma come stiamo andando perché ci sono dei dati inoppugnabili insomma anche rispetto all'andamento alla crisi che stiamo vivendo dei dati inoppugnabili in cui hai i grandi coloro che approfittano nel senso del profitto non è da approfittare nel senso ladronesco del profitto della situazione stanno facendo miliardi e miliardi di profitti e si li gestiscono come vogliono e dove invece cresce angoscia cresce disperazione di alcuni che questo processo liberano dal lavoro nel senso che rendono disoccupati che è esattamente l'opposto della liberazione dal lavoro di cui stiamo parlando noi e crescono le disuguaglianze di reddito e crescono quindi di nuovo è il problema del beruf politico quell'aspetto del lavoro dello spirito che è il politico e se il lavoro scientifico e il lavoro politico assumono insieme la coscienza della prospettiva che il libro di Maurizio apre e allora forse c'è la speranza principio speranza in qualche modo anche fondato che può essere fondato di procedere e di usare di quella possibilità cioè che quella potenza giunga anche all'atto ma perché questa questo passaggio da potenza adatto si possa compiere e occorre un lavoro che combine in sé che allea in sé che coordina in sé politica e tecnica politica e scienza rendendole capaci di interagire di confliggere con i soggetti che oggi fondamentalmente approfittano dei grandi processi di trasformazione automazione cervello artificiale eccetera intelligenza artificiale eccetera eccetera perché altrimenti ci troveremo in una situazione classica dal punto di vista economico economico però con rapidità e accelerazione straordinaria impine ingovernabili cioè semplicemente un crollo del lavoro necessario un crollo del lavoro necessario con conseguenza di perdita di status e di potere contrattuale da parte di grandi masse di grandi masse e disoccupazione alla quale sopperire con che cosa appunto con la carità con i redditi di cittadinanza e con questo cioè creando frustrazioni disagio angoscia rabbia e quindi populismi o quello che vuoi di ogni genere certo c'è la situazione l'affronti invece l'affronti così nel senso misericordioso del termine e non in termini di coscienza della possibilità che queste trasformazioni ti danno e allora certo la prospettiva è assai nera quindi per il momento siamo di fronte secondo me a una situazione alla quale ci rende possibile un discorso molto fondato di coscienza molto fondato di coscienza dopodiché come tradurre tutto ciò in prassi per così dire come potete essere vedete visto che non dobbiamo soltanto interpretare il mondo ma anche trasformarlo questo passaggio è ancora è ancora molto molto incerto ma non è un limite del libro che inizia è un limite della situazione credo la conclusione va sempre all'autore pertanto è giusto che sia così come nelle tesi di Laura il candidato che espone la sua tesi all'ultima parola no io dicevo sì ecco in questa direzione c'è qualcosa che può far far sperare ed è il fatto che qui non dobbiamo affidarci a delle speranze come le contraddizioni intrinseche del capitalismo oppure il risveglio della coscienza di classe delle moltitudini o cose di questo genere abbiamo semplicemente delle istituzioni nazionali e sovranazionali che per inciso detengono ancora dopo aver perso il monopolio del servizio postale e presto anche della monetazione il monopolio dell'esercizio legittimo della forza cioè gli stati che possono contrattare con le piattaforme dicendogli e gli stati hanno interesse politico a farlo perché altrimenti dove prendono i soldi per poter attuare il loro mandato politico e le piattaforme hanno interesse a farlo perché sanno che altrimenti perderebbero un mercato e dei lavoratori dopodiché secondo me la coscienza è ancora molto bassa proprio sui fondamentali perché il fenomeno è molto breve cioè penso Biden adesso ha detto vi faccio pagare le tasse però credo che sia semplicemente le tasse nel senso tradizionale del termine e credo che questo significherà soltanto che aumenteranno il numero di cittadini americani che prenderanno la residenza in qualche paradiso fiscale l'Europa ha fatto una legge sull'intelligenza artificiale che sembra fatta da Harry Potter perché sembra che il grande problema sia evitare che l'intelligenza artificiale ci comandi e ci spii invece di dire scusate l'intelligenza artificiale è il frutto del lavoro degli umani che deve essere riconosciuto dalle piattaforme quindi uno può anche sperare finché c'è stato c'è speranza non nel senso che lo stato sia la salvezza ma nel senso che può anche darsi che la cosa evolva nel senso che Google si farà il suo esercito però credo che prima gli Stati Uniti avranno qualcosa da ridire su questo e Google non avrà niente da obiettare rispetto a questo perché intanto gli Stati Uniti hanno le armi e poi c'è anche un'altra prospettiva e cioè io non credo che necessariamente le piattaforme rimarranno le poche che sono attualmente non è successo con le televisioni non è successo con le radio non è successo quindi potrebbe esserci anche dei processi di frammentazione che rendono l'interlocutore più debole e dunque più docile ma questo è ancora tutto da vedere grazie molto a Maurizio Ferraris che ha presentato questo libro Documanità Filosofia del Mondo Nuovo grazie molto a Giovanni Durbiano e a Massimo Cacciari buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti